Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Fano TV in diretta sono le 7 e 30 come ogni mattina iniziamo la giornata, iniziamo l'informazione leggendo i giornali che troverete in edicola come sempre Corriere Adriatico, il resto del Carlino è messaggero. Sono pronti però prima iniziamo dall'almanacco del giorno, vediamo sabato 17 ottobre, il santo di oggi è Sant'Ignazio, il sole è sorto alle 7 e 24 e tramonterà alle 18 e 23. Vediamo il tempo, partiamo dalle temperature, in questo momento al suolo ci sono 11 gradi, c'è un'umidità del 92%. Vediamo la webcam che immagine ci rimanda, come vedete questa è un'immagine di questo cielo così terzo in questo momento, qualche nube però insomma il sole sta scaldando la città in questi momenti. Vediamo le previsioni del tempo per oggi, il cielo è poco nuvoloso, parzialmente nuvoloso, precipitazioni assenti, le temperature minime in diminuzione. Vediamo per domani, domenica cambia un po' lo scenario, inizialmente poco nuvoloso con aumento però delle nubi stratificate nel pomeriggio e compaiono anche brevi piovaschi sempre nel tardo pomeriggio nel settore settentrionale della regione. Le temperature in lieve aumento, vediamo lunedì che tempo fa, tempo da lunedì piovoso, come vedete addirittura compaiono anche i fulmini e quindi insomma ci saranno anche rovesci di carattere temporaresco però che andranno in esaurimento nel pomeriggio. Il cielo si presenta al mattino nuvoloso però nel pomeriggio migliorerà le temperature in diminuzione nei massimi e in aumento invece i minimi. Vediamo la tendenza per i giorni successivi quindi per il proseguo della settimana, deboli condizioni di instabilità però da martedì poi ci sarà un generale miglioramento per il resto della settimana. Quindi insomma il weekend sarà accettabile però avremo un inizio di settimana piovoso come giusto che sia del resto in questo periodo. Partiamo con i giornali, iniziamo dal resto del Carlino che mette in primo piano appunto l'investimento mortale all'alba. La vittima è un pensionato, Domenico Pasinelli di 74 anni che faceva jogging in quel momento. La 67enne che lo ha colpito si è fermata e ha chiamato il 118 ancora sotto uno stato di shock comprensibile. Poi di spalla qui nella pagina di Fano troviamo la partenza del Fano Fist Festival, la presentazione, un'edizione naturalmente interessante, ricca di tanti riferimenti e avrà anche una perla, una prima assoluta mondiale in occasione del quarantesimo anniversario della morte di Pierpaolo Pasolini. Un film proiettato alla Sala Verdi dal regista Miguel Anghe Barroso dedicato proprio alla vita dell'uomo Pierpaolo Pasolini più che all'aspetto artistico. Ancora lo stadio e i suoi problemi non si placano, insomma le polemiche del post partita, però nessuna chiusura. Allora lo stadio è sicuro, il sindaco Seri ha incontrato al vertice in prefettura questore e prefetto e dopo gli attacchi del SIULP dice lo stadio è sicuro, non c'è stato nessun problema, il comitato dell'ordine di sicurezza ha appunto fatto il punto di quello che è successo al Mancini domenica scorsa. Presto ci sarà una segnaletica per i tifosi ospiti, questa è una notizia che è ripresa anche in altri giornali, quindi vedremo anche altre cose riguardo a questa vicenda. E poi siamo a Pergola per un furto avvenuto in casa che ha fatto passare veramente brutti momenti al malcapitato, rapinato in casa in piena notte. Siamo a Montesecco di Pergola, il malcapitato è questo signore che vedete nella fotografia Fabiani Flavio che mostra proprio da dove sono entrati i ladri e svegliato nel cuore della notte con una torcia in pieno volto, svegliato di soprassalto, immobilizzato e costretto ad aprire cassaforte. Gli hanno portato via 700 euro, oggetti in oro e monete antiche. E dice senza esitazione l'esperienza più brutta della mia vita e ci credo, insomma, adesso è svegliato in piena notte, pensate un po' nel pieno del sonno con un fascio di luce accecante, insomma, momenti veramente di panico, sono cose che non si scordano facilmente. Andiamo a Pesaro con le pagine del resto del Carlino, si parla di piano regolatore, sospirato parcheggio, parliamo del San Decenzio sbloccato, inizio di lavori anche tra un anno delle noci, trova l'accordo per spostare gli inerti e i fiorai. Sono soddisfatti, avanti tutta, quindi per questo progetto dell'Alea del Via Mirabelli, vedete, delle noci soddisfatto con incasso questo piano. Fra in quel luci siamo riusciti a salvare le attività e l'occupazione che non è cosa da poco. Ancora nelle pagine del resto del Carlino, anche questa è una notizia che fa un po' da firruge con tutte e tre le testate, era giro ai danni dell'anziana ed è oro perché stavano prelevando 1,3 milioni di euro. commercialista è vicino, vicino di casa come il gatto e la volpe, ma è arrivata la finanza, l'ereditiera era inconsapevole, sono stati bloccati però dalle fiamme gialle, però avevano già iniziato a spillarle soldi, mille euro per un chilo di pane, poi un colpo grosso di un assegno milionario. Questo è avvenuto perché l'anziana signora pensava che fossero lire e invece erano euro. Ne abbiamo sentite di ogni sugli anziani che spesso vengono fatti oggetto di truffe, di raggiri, si entra in casa, insomma piccole cose, qui invece avevano fiutato il colpo grosso. Cambiamo testata, andiamo nel Corriere Adriatico, anche qui travolto, ucciso in primo piano, prima dell'alba, Domenico Paginelli, 75 anni, erano le 5.30 di mattina, l'investitrice dice non l'ho visto e qui di fianco di spalla un ritratto, una fotografia del signore investito Domenico Paginelli che era vedovo da qualche anno, lascia un figlio e naturalmente il cordoglio di vicini e di quanti lo conoscevano. A quell'ora, si dice appunto nelle pagine del Corriere, era buio, l'anziano faceva la sua consueta passeggiata verso Montegiove, però effettivamente a quell'ora la strada è veramente buia e quindi insomma difficoltà di individuazione. Ancora nelle pagine del Corriere Adriatico, i tifosi incanalati in un'area di sosta, si parla appunto di come si potrà gestire in futuro situazioni come quelle che si sono verificate al Mancini e il Comune di Fano ha pensato di predisporre due parcheggi separati, lontani tra di loro dove incanalare e convogliare le due tifoserie. Il Comitato per la Sicurezza prescrive appunto accorgimenti per la viabilità allo scopo di prevenire altri incidenti e si parla nelle pagine del Corriere Adriatico anche del Carnevale che è in impasse e si rischia di avere carri vecchi. L'ente organizzatore punta sulla promozione nazionale, i maestri della carta pesta vogliono un rinnovamento completo. L'assessore proverà a fare da pacere, da mediatore, tra le due fazioni. Ancora nelle pagine del Corriere Adriatico parliamo della voragine di Orciano, l'annuncio del sindaco ai residenti, dice la frana causata da perdite acqua ma a febbraio la strada verrà riaperta. Andiamo nel messaggero, Pesero, si parla di tasse, il titolo di apertura è dedicato alle tasse, l'addio alla tasi costa 3 milioni, il miglior gettito non preoccupa il comune, il premier ha promesso di compensare la perdita. L'assessore delle noci è volato a Bruxelles a caccia di fondi europei per riqualificare Palazzo Ricci, un palazzo storico a Pesero, quindi insomma rassicurazioni sui fondi per gestire la macchina pubblica anche in virtù dell'abolizione della tasi da parte di Roma. E poi nel corpo della pagina il bus della gita non arriva e i bambini restano a piedi, possiamo immaginare la loro delusione e proteste anche del preside Alighieri. Vorrò approfondire questa cosa dichiarato e sapere il perché questo episodio così spiacevole per i bambini. Il meteo, godiamoci un sabato soleggiato, questo è il commento, lo abbiamo visto, e appunto vedete in prima fotonotizia la truffa all'anziana. Eccola qua la notizia del comune che i 3 milioni in meno per la tasi saranno compensati, l'azzeramento dell'imposta sulla prima casa non preoccupa, ci sarà la compensazione a livello del ministero. L'ultima pagina che vi faccio vedere è quella di Fano del Messaggero, anche qui, Tafferugli allo stadio, accurata la gestione dell'ordine pubblico, lo ha stabilito il Comitato per la Sicurezza durante il vertice presieduto dal prefetto Pizzi, però i tifosi Granata intanto domani saranno privati della trasferta con la gemellata Iesina, e quindi niente partita allo stadio per la tifoseria. Un ordigno bellico affiora a Mettauriglia, ora sarà cura da parte del genio di occuparsene, e farlo eventualmente brillare, pensionato, travolto e ucciso mentre passeggiava, anche questa è la notizia ripresa dal messaggero, appunto è stato investito all'alba tra Centinarola e Rosciano, quindi anche vicino a casa, e l'ente carnevalesca sfila la tensione appunto tra l'ente e i carristi. Questa era l'ultima pagina che vi proponevamo per questa mattina, per la rassegna stampa, grazie per essere stati con noi, per aver iniziato insieme a noi la giornata, naturalmente un saluto anche a coloro che ci seguono in replica, questa sera naturalmente torna l'informazione con occhio alla notizia alle 20.30, se volete come sempre vi ricordo rimanere informati durante il corso della giornata, potete consultare il nostro sito occhionanotizia.it oppure la nostra pagina Facebook o Twitter. Grazie, buon sabato e buona domenica a tutti voi. Grazie a tutti.